Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la resegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, oggi è mercoledì, domani c'è un'attesa riunione in videoconferenza del Consiglio europeo, per prepararla ieri era prevista una riunione al Senato e alla Camera. Queste riunioni possono avere il carattere di un dibattito al termine del quale ci sono delle votazioni, come accade di solito, votazioni di risoluzioni vincolanti per il governo che a quel punto va effettivamente in Europa ma con un mandato molto preciso, ma non è stato ieri questo il caso, oppure ci si può limitare, e questa è stata la scelta di Giuseppe Conte, ma parliamoci chiaro, avallata anche dal Quirinale, inutile girarci intorno, quando un governo fa così vuol dire che sopra è stato aperto un ombrello, un ombrello che però si assume è una responsabilità molto grave, è stata scelta la strada di una mera informativa, cioè Conte è andato, ha parlato, è seguito un dibattito nel quale gli interventi più duri contro Giuseppe Conte sono stati quelli al Senato di Alberto Bagnai, alla Camera di Riccardo Molinari e Giorgia Meloni, ma al termine di questo scambio Conte ha preso, sappiamo se avesse la sua borsa o no, sicuramente la Pochette e se n'è andato, libero di trattare in Europa senza alcun vincolo e all'interno del discorso di Conte c'è stato, scegliete voi se una gaffe, una beffa, una burla, un travestimento, quando Conte a proposito del MES ha detto ma non possiamo dire no, non possiamo mettere il veto per il bene della Spagna, per il bene degli altri paesi che potrebbero fare ricorso a questo strumento e che peraltro non l'hanno richiesto, ma questo è un altro discorso ancora. Capite bene che siamo passati da un granitico no al MES a un intermedio MES vedremo e ora a un MES sì per fare il piacere a qualcun altro. Oggi naturalmente sui giornali, con l'eccezione della verità che vi racconta questo e fa un fuoco di sbarramento significativo contro l'ipotesi del MES è tutto un affaccendarsi di commessi viaggiatori per dire che il MES è una cosa bellissima, è un'opportunità da non perdere. Carlo Cottarelli sentito dal giornale, i professori Alesina e Giavazzi, diciamo più anti-italiani che mai, vedremo la chiusura del loro editoriale sul Corriere della Sera, ma poi anche i commenti politici, Massimo Franco sul Corriere, Marcello Sorgi sulla stampa, un fiammeggiante Claudio Cerasa sul Foglio, tutti a dire ma che meraviglia questo MES. C'è però un piccolo dettaglio che a guastargli la festa è un corrispondente da Bruxelles, che peraltro non è sospettabile di essere un eurocritico, è un eurolirico a 24 carati, Marco Bresolini, il corrispondente della stampa, tante volte accompagnatore musicale delle conferenze, un tempo di Juncker, oggi della von der Leyen, eccetera, e Bresolini però smonta tutto questo discorso e dice sapete cosa c'è? Il Consiglio europeo si risolverà in un mezzo flop, nel senso che tutto ciò su cui Conte punta in termini costruttivi il mitologico recovery fund non sarà approvato, ci sarà semplicemente uno statement del Presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel, non ci sarà nemmeno un documento condiviso, quindi sostanzialmente uno statement del Presidente, tutto sarà rinviato a una futura proposta della Commissione europea, sarà lei, ma a quel punto servirà del tempo, un mese, due mesi, tre mesi, tempi lunghi e incerti a elaborare questa proposta, nel frattempo ti devi prendere il mess. Capite bene che i contorni dell'ingabbiamento dell'Italia cominciano a essere veramente molto chiari per chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale. Sarà questo il tema dominante della rassegna stampa. Ci sono anche però delle questioni sanitarie. Intanto un'inchiesta sulla verità, firma di Giacomo Amadori e Camilla Conti, sul pasticcio delle mascherine nel Lazio, con una strana operazione che vedremo del Presidente della Regione Lazio Zingaretti che ha messo in piedi una polizza, una polizza farlocca, scrive però nel titolo di prima la verità. E la riapertura si favoleggia intorno a questo 4 maggio. Oggi con sprezzo del pericolo e in qualche caso del ridicolo il Corriere della Sera ci dice qual è il frutto di questa tempesta di cervelli del Comitato Colao. Quattro paginette, nove punti e un PowerPoint che sarebbero in via di consegna al Presidente del Consiglio Conte. Ancora ecchi della questione nomine e il fatto che alimenta una vera e propria spy story, perché il fatto quotidiano forse per distrarre, ecco forse questa è la spiegazione più semplice, come si fa ai bambini, guarda là, ecco, per nascondere il fatto che un membro del Consiglio di Amministrazione del Fatto è diventata Presidente dell'ENI, lancia ora un bengala in altra direzione per dire ma qui c'è un problema, Davide Casaleggio si è incontrato con l'amministratore delegato uscente e rientrante dell'ENI descalzi, arci nemico del fatto, manovra di distrazione, manovra diversiva. Sulla stampa scopriamo che Di Maio non dimentica i compagni di scuola e uno è finito a Leonardo, niente meno, mentre su Atlantico Quotidiano Online scoprirete che nel CDA di ENI è finita anche una signora, un'analista internazionale, come si dice che però era conosciuta come consulente voce della Mogherini e quindi capite bene che Tehran avrà un'altra amica, diciamo così, nel CDA dell'ENI. Va bene, questo il sommario, andiamo a vedere le aperture dei quotidiani in edicola con la raccomandazione, quando questa rassegna sarà finita, di passare in edicola a prendere la verità o, se non avete intenzione di uscire oggi, di andare su laverita.info e far tesoro delle opportunità di abbonamento. La verità, Giuseppi non si smentisce mai, parla tanto per non dire nulla, conte, parole, 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 nessuna indicazione chiara su come e quando si ripartirà, i soldi servono tra milioni di euro, ma mentre gli altri paesi li mettono, lui aspetta l'UE e qui non si vede nulla. Melina sul MES, non lo uso, forse, l'informativa alle camere conferma, il Premier è una sciagura per l'Italia, così la verità. Corriere della Sera, come sempre accade nelle giornate calde, diciamo, sceglie invece la strada unemotionally factual, come se fosse un osservatore britannico in gita in Italia, mascherina fino al vaccino, apertura così vaga e fattuale del Corriere della Sera. Il Fatto Quotidiano questa volta cambia bersaglio, per una volta non c'è la Lombardia nel mirino, ma le realtà economiche e finanziarie che hanno investito nel RSA. CDB, che vuol dire Carlo De Benedetti, Angelucci, che vuol dire Angelucci, chi c'è dietro le RSA. Questi personaggi sono effigiati sulla prima del fatto. Il giornale titola Ripartenza fai da te, però attenzione, qui dobbiamo risegnalare un po' lo zigzag. Domenica il giornale aveva preoccupato i suoi lettori, diciamo, più convinti e convintamente di centrodestra, con l'intervista a Conte. Poi lunedì e martedì il giornale aveva, diciamo, ricorretto la linea, dicendo no, assolutamente nessun sostegno a Conte. Oggi il direttore Sallusti insiste su Conte Godot, le scelte che non arrivano, però trovate molto valorizzate in prima, con Fotonotizia, l'intervista a Carlo Cottarelli che dice il mess non è una trappola. Guarda che bello questo mess. Il tempo ironizza amaramente su altre sciocchezze, diciamolo chiaramente, dette dagli scienziati, in questo caso dall'Istituto Superiore di Sanità. I bimbi salti e corse in casa. L'Istituto Superiore di Sanità ha scoperto, dopo averli carcerati, che ai bimbi serve l'attività fisica. Così ora chiedono ai genitori di farli ballare e saltare in lungo, massimo un'ora davanti al PC. Si sono scordati, annota opportunamente il sommario del quotidiano diretto da Bechis, che la scuola fa ore di lezioni sullo schermo e che nessuno vive in Castelli. E effettivamente c'è questo dettaglio. La stampa, che prosegue la sua avanzata per raggiungere i quotidiani ancora più filogovernativi, fatto e corriere, Conte riapre tutta Italia il 4 maggio. Magari fosse così, ma non ne saremmo così certi. Infine Repubblica è invece più preoccupata con la questione delle previsioni sul PIL, meno 15% il profondo rosso del nostro virus. Allora, questo è il quadro delle aperture. Abbiamo fatto un po' un'infarinatura tra sommari e aperture. Andiamo a vedere come la mette Maurizio Belpietro, che ci aiuta a inquadrare la giornata e parte dalle chiacchiere di ieri di Conte, alle 15 il Senato e alle 17.30 alla Camera. Il Premier parla tanto per non dire mai niente e evoca, Belpietro, l'antico successo di Nina e Alberto Lupo. Parole, parole, parole. Andiamo a vedere come conclude il direttore della Verità. Sì, Conte non cambia mai, proprio mai. Il Senato, dopo aver parlato di trilioni, ha evocato la luna e i grilli, parlando del MES e dello European Recovery Fund. Sul primo, il Presidente del Consiglio ha dei dubbi, ma è sbagliato alimentare un dibattito che rischia di dividere l'Italia su diverse tifoserie, virgolette. E, commenta Belpietro, dunque che si fa? Si dice di sì o di no? Sul secondo, invece, il Premier si dichiara favorevole, ma non si aspetta che alla prossima riunione Europa si trovi la soluzione. Dunque, nel frattempo, che succede? Conte metterà il veto come ha fatto trapelare o piegherà il capo? Neppure su questo il giurista di Voltura Rappula pronuncia una parola definitiva. Già, dopo aver evidenziato la necessità di una risposta il più velocemente possibile, altro avverbi, il Premier ha spiegato di voler attendere i regolamenti attuativi del Pandemic Crisis Support, la nuova linea di credito del MES per vedere se sarà davvero senza condizionalità. Insomma, conclude ironicamente Belpietro. Conte è un uomo di parole. Il suo problema è che di parole ne conosce e ne usa tante, al punto che tra lui e gli italiani ci sono soltanto parole, proprio come nella canzone di Mina. Così, il direttore Belpietro è l'offerta informativa della verità è articolata. vi facciamo subito qualche segnalazione, poi passiamo al MES. Carlo Tarallo a pagina 2 che spiega la confusione del governo anche sulla ripartenza. Prima la prospettazione di una riapertura a scaglioni, poi no, invece ci vuole il quadro nazionale. Ancora Antonio Grizzuti che indaga, ieri in questa rassegna avevamo accesi i riflettori, era gioco facile che il tema sarebbe diventato rovente, sulla surreale intervista al Corriere della Sera di ieri mattina del direttore generale della Sanità Urbana e diceva che avevamo un piano segreto a fine gennaio, doveva essere molto segreto perché il 27 Conte andava in TV a dire che era tutto prontissimo. Antonio Rossitto continua a ragionare su questa altra storia stragrande dell'app, volontaria, sì, no, forse. Mentre il vice direttore Francesco Borgonovo ragiona sugli avvoltoi rossi che continuano a volteggiare sulla Lombardia e pezzo imperdibile di Borgonovo si segnala in questa galleria dell'orrore lo scrittore Christian Raimo, uno che a scadenze trimestrali deve fare una figura di quelle proprio impresentabili, ieri pensando di essere brillante, chiosa criticamente a Borgonovo, ha scritto su Twitter non Milano da bere ma Milano da bare, ecco, pensando di essere spirituoso. Con i cadaveri ancora caldi questi signori si permettono questo tipo di battute. Spostiamoci sul versante del MES che è il cuore di questa rassegna di stamattina. Allora, sulla verità si segnalano almeno tre cose. La cronaca parlamentare di ieri con quest'incredibile sortita di Conte che vi dicevamo nel sommario lo facciamo per la Spagna e la parte addirittura provocatoria alla Camera quando ha detto ma noi abbiamo una carta riservata per la trattativa ma come vai in Parlamento e non informi il Parlamento di quella che è la tua carta negoziale. Se non vuoi farla in aula potevi chiedere di essere audito in commissione in forma riservata. Ma insomma che senso ha appellarsi alle opposizioni e poi nascondere quello che dici di avere in serbo e nel pezzo, come vi dicevo, si sintetizzano gli interventi più duri, contro Conte, più efficaci. Alberto Bagnaia al Senato, alla Camera Molinari e la Meloni. Antonio Liturri torna sulle pressioni che anche dall'estero arrivano. Ieri avevamo commentato l'intervista a Franz Timmermans, vicepresidente della commissione, chiodato, chiosato, non chiodato, per carità, il lapsus è in questo caso feroce, chiosato, chiosato, ma duramente criticato da Liturri in una lucidissima analisi. Così come è molto lucida l'intervista che rilascia a Luca Telese un economista che si chiama Massimo D'Antoni, che è un uomo di sinistra, firmatario di un appello di uomini di sinistra, alcuni dei quali non lontani dal Partito Democratico, che mettono in guardia rispetto al MES e davvero assolutamente si raccomanda questa intervista. Proviamo a individuarne almeno un passaggio che a me pare molto significativo. La differenza, scrive il professor D'Antoni, è che i regolamenti dell'Unione impongono a chi ottenga un credito dal MES, anche un credito leggero come questo, la sorveglianza rafforzata e, domanda Telese che lo intervista, traduciamolo, e D'Antoni traduce, sei soggetto a controlli, vigilanza e raccomandazioni analoghi a quelli previsti per un paese in procedura di infrazione. Sei un governo che approva, che ne so, il reddito di cittadinanza? Io ti raccomando di non farlo, domanda Telese, e se non accetti si può arrivare a raccomandare l'adozione di un percorso di aggiustamento macroeconomico con vincoli ben precisi. Devi negoziare la tua politica economica con Bruxelles come abbiamo visto in Grecia. E' in fondo, se vedete, il tema che ha posto ieri nel suo intervento Bagnai al Senato che dice guardate che i paesi del nord sistemeranno i loro bilanci con l'aiuto del denaro dell'ABC. Questa opzione rischia di essere preclusa o molto ridotta all'Italia a cui invece si dirà prendi il MES, ti indebiti, ma poi dopo a quel punto arriva o di nome o di fatto la Troica o comunque arriva qualcuno che ti chiede conto della gestione del denaro che hai ricevuto. Naturalmente però invece ci sono gli entusiasti del MES e noi vi abbiamo raccontato sulla verità le voci contrarie e qualunque giornale sceglierete di acquistare troverete invece, come dire, musica da camera che accompagnerà con un delicato sottofondo di archi eccetera la corsa verso il MES. Carlo Cottarelli, sentito dal giornale, la prima riposta è fantastica. L'impianto del MES funziona così, un paese membro fa domanda di finanziamenti associati a un determinato programma e inizia una discussione che si conclude con determinate condizioni. Solo alla fine di questo processo, se le condizioni vanno bene il paese firma. Qui le condizioni dovrebbero essere solo relative all'uso dei fondi per la sanità. Quindi niente riduzione del deficit pubblico. A quel punto nell'esecuzione del programma non è più possibile cambiare l'oggetto della condizionalità. Ma non è così, professore. Il trattato MES non cambia, il regolamento... Cottarelli che evidentemente sa che non può esagerare dice c'è chi fa riferimento a un articolo del regolamento per sostenere che la condizionalità sul deficit può essere introdotta anche successivamente. A me non sembra, ma è una questione che può essere facilmente accertata prima di richiedere il prestito e a me non sembra è davvero l'hashtag del mattino. Chi vorrà salutare il professor Cottarelli a me non sembra, è veramente fantastico. Vediamo invece cosa sembra ad Alesina e Giavazzi che, col tono dei bocconiani, che non hanno tempo da perdere, dicono che per noi sarebbe un errore voler fare da soli. Insomma, poche discussioni. Qui il MES bisogna prenderlo. E la chiusura, diciamo, austriacante, perché il tono è questo, è che alcuni rappresentanti dei paesi del nord Europa siano talvolta gretti, non c'è dubbio. Ma noi dobbiamo essere più umili e realistici nel riconoscere che chi non si fida dei rappresentanti del nostro Stato qualche motivo in passato l'ha avuto. Italiani, fate schifo, lo dicono con la loro autorevolezza Giavazzi e Alesina. Ma non sono solo Cottarelli per un verso, Giavazzi e Alesina dall'altro mobilitati, si automobilitano anche i commentatori politici. Ecco Massimo Franco sul Corriere, una scommessa obbligata per evitare l'isolamento. Vedi, proprio non ci si può sottrarre al MES, se no si resta isolati e più o meno in fotocopia, appena più sorvegliato nel linguaggio, Marcello Sorgi che parla di uno slalom sul MES per evitare l'isolamento. Chi invece è proprio sorvegliato non è né nel linguaggio né nella sostanza è il direttore del foglio Claudio Cerasa che fiammeggiante dice è l'ora di un whatever it takes italiano. In un formidabile articolo pubblicato ieri sul nostro giornale Lorenzo Binismaghi con parole semplici ha messo letteralmente in mutande gli azionisti di un partito molto trasversale che parte dalla Lega e arriva fino al 5 Stelle che negli ultimi tempi ha trasformato la battaglia contro il MES nel suo principale tratto identitario. L'articolo per la verità non metteva in mutande nessuno, semmai esponeva anche senza mutande abbastanza nudo, appena con una foglia di fico, la posizione ben nota di Binismaghi. Aggravata ieri da questo tratto, se non pigliate il MES siete cattivi e volete la fine dell'Europa. Vedete come conclude Cerasa. È la ragione per cui in Europa si sta formando un fronte ampio e trasversale desideroso di dotare l'Eurozona di tutti gli strumenti necessari per salvaguardare i suoi paesi. Ed è qualcosa che prescinde dalla singola volontà di aiutare un paese in difficoltà. È qualcosa che riguarda invece l'essenza della sfida che si sta combattendo in queste ore nel nostro continente. Offrire all'Europa i giusti anticorpi non solo per fronteggiare i disastri oggi generati dal coronavirus, ma anche per fronteggiare i disastri che potrebbero essere prodotti dalla persistenza in un paese fondatore dell'UE di un robusto partito ostile all'Euro, la Lega, il cui segretario è stato eletto leader del partito sulla base di un programma che prevedeva la necessità a determinate condizioni di attivare l'articolo 50 dei trattati, quello ciò che permette a un paese di uscire dalle UE. L'Europa dovrà fare certamente la sua parte per non alimentare spinta anti-europeiste, ma nei prossimi giorni anche l'Italia dovrà fare altrettanto per dimostrare costi quel che costi, whatever it takes che gli istinti anti-europeisti che si nascondono dietro ai nomes appartengono al passato e non al futuro del nostro paese. Insomma la tesi di Cerasa è che il problema non è il coronavirus, il problema è Salvini, questa è la chiamata, sappiamo se alle armi o a cosa per il whatever takes di Cerasa. Va bene, però tutto questo sforzo che abbiamo letto, Cottarelli, Giavazzi Alesina, Franco, Sorgi, Cerasa, ma guarda che meraviglia, l'Europa, eccetera, e tutto questo sforzo viene smontato da un loro amico e compagno di convinzioni euroentusiastiche, e cioè Marco Beresolin, sulla stampa, verso la fumata nera al summit europeo, sarà la commissione a proporre il fondo. Con ogni probabilità non ci saranno le abituali conclusioni congiunte che ogni tanto qualche governo minaccia di bloccare, al 90% ci sarà solo una dichiarazione di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, segno che le divergenze sono enormi e non è il caso di perdere tempo a litigare. Morale della favola, cosa porterà di concreto il vertice? Chi vede il bicchiere mezzo pieno potrà dire che domani tutti i governi avranno dato il loro via libera al lancio di un recovery fund, ma chi lo vede mezzo vuoto continuerà a dire che non c'è intesa sulle caratteristiche del fondo e che dunque i progressi sono soltanto apparenti. La patata bollente finirà nelle mani della commissione europea e vedete bene che a questo punto se vai alla commissione europea, che deve poi collegare la questione al bilancio europeo, palla lunga, ma l'Italia ha bisogno di liquidità immediata e allora, zack, eccola là, beccatevi il mess, vedete come il trappolone è stato congegnato in modo scientifico e il volpino conte c'è cascato alla grande. I riflessi politici di tutto questo? Beh, ci sono un paio di cose da vedere. Intanto Antonio Tagliani, che diciamo sembra offrire una sponda molto consistente al governo, viene sentito dal Corriere della Sera, mentre i rappresentanti di Forza Italia ieri in aula, la Gelmini pur diciamo avendo una posizione molto sfumata del mess, la Gelmini ha usato l'espressione pragmatica, saremo pragmatici sul mess e poi però almeno cercavano di dare un segno di opposizione rispetto al governo. Tagliani parla esplicitamente di appoggio al premier nella trattativa con lui e nella risposta conclusiva dice che non è questo il momento di sostituirlo, aprendo certamente la porta a sviluppi diversi dall'attuale, ma insomma la sensazione è che a Palazzo Chigi leggendo questa intervista saranno più confortati che allarmati. Saranno invece più allarmati che confortati nel leggere Repubblica, pagine 6 e 7, pagina 6, il retroscena di Carmelo Lopapa che evoca un rischio scissione nel Movimento 5 Stelle, pagina 7, tutto questo si materializza nella intervista battagliera dell'euro parlamentare con Rao che dice se usiamo il salvastati il governo cade, Di Battista è il leader che serve al movimento e questo mi fa capire, comunque voi la pensiate, è auspicabile che uno non sia né per il messo né per Di Battista, le due sciagure potrebbero essere entrambe evitate, però questo vi fa capire come mai Conte non abbia fatto votare ieri perché se si fosse votato queste contraddizioni sarebbero venute alla luce. Abbiamo citato criticamente il giornale per l'intervistora professor Cottarelli, citiamolo positivamente per un bel commento della professoressa Ginevra, Cerrina Ferroni, che invece mette in luce tutto il tema delle libertà violate, di come alcuni principi costituzionali importanti siano stati ingiustamente messi in discussione. C'è anche un versante sanitario della giornata mentre ci avviamo alla parte conclusiva della rassegna, certamente sì. Intanto l'inchiesta che vi risegnaliamo di Amadori e Conti sulla prima della verità, pasticciaccio mascherine, Zingaretti due giorni fa si è fatto alla polizza farlocca e l'inchiesta poi si distende nelle pagine interne, pagina 10 e 11, polizza farsa di Zinga sulle mascherine firmata due giorni fa ed è anche farlocca e vedete che poi all'interno ci sono anche persone indagate con questioni abbastanza serie. Noi qui siamo assolutamente garantisti ma correttamente Amadori e Conti fanno nomi, cognomi e indirizzi e spiegano tutti i problemi davvero non piccoli e da non sottovalutare che ci sono. La ripartenza non dispiacerà alla tempesta di cervelli radunata da Vittorio Colao ma fa abbastanza sorridere nel pezzo di Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera. Ecco l'agenda graduale di Colao. Vediamo questi cervelli che hanno partorito e spiega il Corriere. La task force di esperti guidata da Vittorio Colao ha consegnato ieri sera al presidente del Consiglio Giuseppe Conti il documento con le linee guida per la cosiddetta fase 2. Quattro pagine, nove punti tematici e un powerpoint che serviranno da base per le decisioni che il governo dovrà prendere. Va bene, il gran lavoro della task force. A proposito di task force, la questione degli esperti, dei comitati, il Sole 24 ore tragicomicamente sabato ne ha enumerati 15 con 450 persone a vario titolo mobilitate. Ma va tutto bene fra loro? No, pare di no. Il fatto quotidiano, che certo non è sospettabile di essere antigovernativo, è una specie di guardia svizzera a sostegno di Conte, nel pezzo di Alessandro Mantovani e Ilaria Proietti, che è molto ben scritto e divertente, racconta delle liti e degli insulti tra gli esperti nel comitato scientifico, con Ippolito, quello dello Spallanzani, che dice agli altri siete servi sciocchi, immaginate che gli altri non l'avranno presa benissimo, poi ah tu sei stato in televisione, anziché stare qui sotto accusa rezza del CNR, immaginatevi le gelosie, le inviare questi professoroni con le penne del pavone vanitosissimi e incazzatissimi fra loro, racconta le liti, l'ultima anche tra Burioni e un altro che si chiama Tarro, sul Corriere della Sera, la racconta Fabrizio Roncone, Miss Italia, sì ma devi stare a bocca chiusa, vedete che questa storia degli esperti non finisce benissimo. Non è finita benissimo neanche la questione delle nomine, su cui abbiamo tre cose da segnalare, intanto ve lo dicevamo il Bengala sparato dal fatto, questa è la mia interpretazione, forse maliziosa, non tenetene conto per carità, ma per distrarre dal fatto che una componente della società, del CDA, della società editrice del fatto è finita all'ENI, tema obiettivamente imbarazzante per Travaglio e i suoi amici, ma come contro il regime, contro il regime e poi diciamo le stanze dell'ENI. Oggi per distrarre Carlo Tecce fa un paginone rubricato Potere in cui si parla degli incontri riservati tra Descalzi e Davide Casaleggio e con ciò Travaglio, che è un genio, va detto, prende due piccioni con una fava. Primo, diceva lo vedete, io attacco anche Casaleggio, quindi non ditemi che sono lausorgan grillino e secondo, continua a tenere sotto pressione quel Descalzi contro cui ha fatto la campagna ma con cui la sua, diciamo, amica del fatto ha finito per accettare una specie di ticket tutto questo ve lo racconta, cioè non ve lo racconta, un pezzo lo racconta il fatto il resto, diciamo, ve lo raccontiamo noi. Vi racconta Atlantico quotidiano in un retroscena importante di Dorian Gray che vi racconta chi è un'altra nuova componente del CDA dell'ENI Natalie Tocci, signora che è stata consulente della Mogherini e diciamo che si è sempre segnalata per posizioni filo Teheran, ci mancava solo questo a LENI. Ma un'altra cosa divertente la racconta Ilaio Lombardo sulla stampa. Leonardo, tra i nuovi membri del CDA c'è l'ex compagno di scuola di Di Maio, il fedelissimo Carmine America che se ne era portato prima al Mise e poi alla Farnesia. Deve essere proprio indispensabile. Qui non si può fare un governo, una partecipata non si può lavorare se non c'è, come si chiama, senza Carmine America non si può andare avanti, non si fa giorno e allora sta nei membri del CDA. È fantastico, dovevano aprire tutto come una scatoletta, eccoli qua, a lottizzare selvaggiamente. Va bene, siamo alle segnalazioni conclusive, ce ne sono almeno tre importanti. Intanto Claudio Antonelli che ragiona è a mio avviso il pezzo più interessante e articolato fra quelli usciti tra ieri e oggi sul tema del crollo del prezzo del petrolio e Antonelli ragiona su chi rischia di affogare nel mare di petrolio. È un pezzo, chiedo scusa, a quattro mani. C'è Antonelli e c'è anche Gianluca Baldini, quindi onore a entrambi, che ragionano su tutti i paesi che avranno i depositi pieni ma dovranno fare i conti con il crollo del greggio. Poi naturalmente ci sono quelli che grazie ai fondi sovrani, i sauditi, la Norvegia, eccetera, avranno comunque spalle robuste per resistere. Mentre, sempre restando sulla verità, ed è un'altra segnalazione interessante, dove eccolo qua, diciamo dell'Iran e dell'Eni, però l'Iran va direttamente su Palazzo Chigi, Gabriele Carrer parla di una telefonata che sarà un caso geopolitico e ancora una volta non farà piacere a Washington di Ruani a Palazzo Chigi per chiedere una mano contro Trump, pezzo di Carrer che assolutamente si segnala. Ultima segnalazione invece noi continuiamo, ho una certa età, dovrei non stupirmi più, ma continuo a stupirmi perché Antonio Polito, giornalista molto serio e molto rispettabile, fa un'intervistona a Emma Bonino sul Corriere della Sera per difendere le donne discriminate, la meritocrazia che umilia la parte femminile della società, così le donne non andranno mai al potere, e la Bonino insomma bonineggia su tutto questo tema, è come se il paese continuasse a tagliarsi un braccio, insomma tutte cose anche in buona misura condivisibili, c'è però un piccolo dettaglio, ma come si fa a prendere la Bonino come esempio delle donne discriminate quando, diciamo, questa autorevole signora sicuramente sacrificandosi molto per il bene di tutte le altre donne è dal 76 ininterrottamente nelle istituzioni, 76 2020 fa 24 più 20 44 anni consecutivi senza stare un minuto fuori dalle istituzioni e già non sembra esattamente il prototipo dell'esclusione e della lotta al regime di cui un tempo i radicali parlavano, ma c'è stato un secondo tempo in cui Marco Pannella spiegò che la Bonino era più che altro persona del jet set e aveva, come spesso gli capitava, ragione Pannella. Ne volete una conferma? Paginone sul Corriere della Sera della Bonino. Con questo abbiamo chiuso, ricordandovi che noi ci risentiamo, se vorrete, questa sera alle 19, ma raccomandandovi il passaggio in edicola non mancate di prendere, peraltro oltre alla verità, anche Panorama, perché oggi è il giorno anche dell'uscita del settimanale. Buona giornata a tutti.